buona sua ragazzi allora no 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 cacchio e via allora intanto buongiorno a tutti siamo sempre al giro siamo sempre al giro quando ci sta tempo si scappa si continua la il nostro tragitto l'ombrello che magia che magia allora si torna in giù da parte dell'orandia come avete visto nel video e come avete visto nella breve storia siamo stati anche al pub di harry poter però si continua con durante la strada si continua con harry poter siamo a grazzano poi visconti giusto questo è stato parlo io parlo io allora consigliato dal nostro mitico marco anzi mi raccomando a un canale youtube marco faccio da me andate vedete e iscrivetevi e iscrivetevi consigliato appunto da marco però si disse si è detto se siamo nei paraggi più che volentieri siamo nei paraggi e si va in questo parisino sempre c'è sempre in mezzo a ripostere anche qui è come come mater di poter appunto in questo paese sembra un po o over poi può vedere un po di roba spero vi piaccia a vedere molto molto carino ciao belli grazzano visconti è una città d'arte caratterizzata da un piccolo borgo immerso in un'atmosfera del mondo degli antichi manieri da far ricordare dame e cavalieri nel 1800 il luogo fu trasformato per opera del conte giuseppe visconti in un paesino medievale contemporaneo costruito su un immaginario modello gotico con un po di fantasia ci immergiamo in un film fantasy quello del nostro maghetto negli occhiali grazie a tutti 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 grazie a tutti